tetraplegico di fermignano invoca il suicidio assistito omicidio di fanano chiesti 24 anni per vito cangini ex amga la bonifica si scontra col ritrovamento di amianto in cento al lavoro a pesaro per i tagli dell'erba ull sotto 2 a 0 nei playoff domani partita da dentro o fuori buona serata e ben ritornati al nostro telegiornale oggi è mercoledì 18 maggio e apriamo questa edizione parlando di un argomento molto delicato si è infatti aperto oggi il terzo caso di richiesta di omicidio assistito in italia un appello che proviene da fermignano così come anche i precedenti due erano arrivati dalle marche una richiesta di suicidio che è stata accompagnata da una toccante testimonianza video che vi mostriamo in questo primo servizio un video postato e condiviso sui social dall'associazione luca coscioni l'autore del messaggio è fabio ridolfi 46ene di fermignano e il contenuto del messaggio che veicola lascia spazio a pochi commenti gentile stato italiano da 18 anni sono ridotto così ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibile aiutami a morire fabio da 18 anni è immobilizzato a letto in quanto tetraplegico può muovere solo gli occhi e comunica soltanto direzionando il puntatore oculare ed è così che compone un messaggio disperato il suo rappresenta il terzo caso italiano di richiesta di suicidio assistito e anche questo arriva dalle marche i primi due mario e antonio nei mesi scorsi hanno scelto nomi di fantasia e le riservo dell'anonimato fabio ridolfi invece ci ha messo nome cognome faccia e questa video testimonianza per rafforzare la sua richiesta la sua non è vita vuole morire e vuole farlo senza soffrire intende farlo nei modi e nei tempi che desidera e sente che la legge è dalla sua parte fabio ridolfi infatti assistito dall'associazione luca coscioni e si è rivolto all'asur delle marche in seguito ai precedenti giuridici creati proprio dai casi di mario e di antonio l'associazione ha infatti attivato le verifiche previste dalla sentenza della corte costituzionale relativa al caso di dj fabo attraverso il quale il 25 settembre del 2019 la corte aveva aperto al suicidio assistito l'associazione coscioni attraverso il suo segretario nazionale marco cappato ha riferito che quello di fabio è un diritto riconosciuto dalla corte costituzionale ma come nei casi di mario antonio il ritardo dell'asur nel rispondere alla sua richiesta diventa una violazione agli obblighi di legge che acquisce mesi di sofferenze reputate sempre più insostenibili come vi abbiamo anticipato nel telegiornale di ieri si è aperto questa mattina il processo per omicidio volontario di Vito Cangini ottantenne che la notte fra Natale e Santo Stefano nella sua casa di Fanano di Gradara uccise con 12 coltellate la moglie Natalia Kirikok, 61enne di origine ucraina ma da 20 anni in Italia uno sconcertante delitto scatenato da gelosie e paranoie degenerate in una richiesta di rapporto sessuale negato futili motivi per i quali il pubblico ministero ha chiesto oggi una pena di 24 anni di reclusione per Cangini reo confesso dell'omicidio il 25 maggio è prevista la ringa della difesa ed ora cambiamo completamente argomento perché non c'è pace a quanto pare nell'area dell'ex AMGA a tre mesi dall'inizio della bonifica di questa area residenziale inquinata sono infatti emersi nuovi frammenti di amianto vediamo prosegue la bonifica dell'area ex AMGA delimitata fra via Morosini e centro direzionale Benelli ma intanto spuntano altri malaugurati intoppi gli scavi in corso per la piantumazione delle circa 500 piante fra alberi e arbusti previsti per le opere di bonifica green hanno infatti portato alla luce piccoli frammenti di amianto depositati ad un paio di metri di profondità un inconveniente che si fatica a ricondurre ad un preciso percorso ma che obbliga ad una nuova rimozione di queste componenti nocive ora si procederà ad una campionatura in appositi sacchi depositati in un tendone bianco allestito ai lati di via Morosini probabile che nei prossimi giorni le operazioni vengano accompagnate da un'ordinanza di obbligo di finestre chiuse per i residenti della zona così come di non circolare negli immediati paraggi un'area inquinata che è davvero senza pace in questi anni 2000 ma si tratta di un ostacolo che anche oggi non ha pregiudicato le operazioni di creazione di parco urbano cominciate tre mesi fa si tratta di un lavoro nato dalla convenzione tra comune, università della Tuscia e ARPAM che utilizza tecniche di fitorimedio vale a dire l'impiego combinato di piante e microorganismi del suolo selezionati direttamente nell'area e testati per le loro capacità di aggredire i contaminanti organici contestualmente si punta a risanare la falda acquifera tuttora contaminata pompando esternamente l'acqua una volta che l'area sarà piantumata verrà mantenuta anche grazie alla nascita di un laghetto per il quale è già stato realizzato lo scavo laghetto che sarà alimentato dalle acque della falda purificate che serviranno per il sostentamento del verde dunque una operazione di rigenerazione che spera che l'ultimo ritrovamento resti un episodio isolato e non l'inizio di un nuovo percorso in salita Ed ora apriamo uno spazio dedicato alla viabilità e ai lavori pubblici che si stanno tenendo in questi giorni le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono alla rotatoria stradale tra via Fratti, via Belgioioso, via Giolitti e via Trometta che dopo un mese di lavori è stata oggi riaperta al traffico alleggerendo i percorsi ad ostacoli che da settimane si stavano creando in questa area appunto di Pantano Si è infatti concluso il primo step dei cantieri di Marche Multiservizi per migliorie alle reti di acqua, gas e illuminazione di via Fratti I lavori sono terminati con due giorni d'anticipo rispetto al 20 maggio che era stato indicato come termine della proroga dei cantieri E da via Fratti passiamo a via Passeri e via Curie l'asse del centro storico che si prepara ad una riqualificazione pensata per favorire il passeggio ed evitare soste selvagge La giunta comunale ha infatti previsto oggi uno stanziamento da 240 mila euro per l'inserimento di un arredo urbano all'insegna del verde composto da nuove alberature, fioriere e panchine Verranno anche ricollocati gli spazi di sosta per i motorini e le rastrelliere per le biciclette e verrà rifatta la pavimentazione del selciato in prossimità del Museo Nazionale Rossini e della Biblioteca San Giovanni Come annunciato dall'assessore al fare Riccardo Pozzi lo stanziamento sarà attivato attraverso l'accensione di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti già previsto a bilancio E nelle scorse settimane suripetute segnalazioni di voi telespettatori chiaramente vi ringraziamo per mandarci sempre tante segnalazioni ci siamo occupati di diversi casi di erba incolta e vegetazione selvaggia in tanti luoghi pubblici della città di Pesaro e allora a tal proposito in questi giorni è partito un massiccio lavoro di sfalci e abbiamo interpellato proprio il presidente di Aspes Luca Pieri Questi giorni è iniziato il secondo taglio generale considerate che un taglio sul territorio del comune di Pesaro è circa di un milione e mezzo di metri quadrati quindi tanto e soprattutto non sono tutti insieme sono dislocati su tutto il territorio comunale quindi dalle frazioni al centro storico alla zona mare ai quartieri più centrali quindi il lavoro è tanto quest'anno purtroppo per fortuna l'estate è arrivata molto presto unita al tanto caldo e unita alla pioggia ha fatto sì che l'erba crescesse e come dico sempre l'erba cresce tutti insieme ma purtroppo non si riesce a tagliare tutti insieme quindi noi stiamo facendo veramente un lavoro esponenziale nei numeri e anche negli sforzi che si stanno facendo in questi giorni ci sono più di 100 nostri addetti tra dipendenti di Aspes e dipendenti delle aziende che lavorano per noi a questi vanno aggiunti circa 150 volontari che ci aiutano in alcune parti della città lo sforzo è tanto chiediamo di avere un pochino di pazienza proprio per quello che dicevo prima quest'anno si è partiti nonostante si è partiti prima abbiamo una crescita dell'erba legata appunto a questo clima caldo e poi subito pioggia poi di nuovo caldo che ha fatto arrivare l'estate prima ma che fa crescere anche l'erba tutta insieme tutta in maniera molto veloce con grandi sforzi da parte nostra poi per tagliarla quindi magari a chi lamenta situazioni di abbandono di periferie magari dimenticate possiamo rassicurare che si arriverà dappertutto noi arriviamo dappertutto come ho detto abbiamo già fatto dappertutto il primo taglio Aspes taglia 8 milioni circa di metri quadrati di erba in un anno a più riprese nei tagli che facciamo arriviamo sempre dappertutto ormai le aree sono consolidate negli anni e sono sempre quello la programmazione è quella ci sono dei momenti dei periodi in cui si è un pochino più in difficoltà perché come dico con un caldo così basta due gocce di pioggia e l'erba che stiamo tagliando alle nostre spalle fra una quindicina di giorni è ora di ritagliarla e non sempre si riesce a arrivare in quei tempi quindi chiediamo un pochino di pazienza chiediamo anche un aiuto facciamo un plauso a quei cittadini che segnalano e ancora di più un plauso ai cittadini che ci aiutano sono circa 150 forse di più che sono arrivati che ci danno una mano con il loro lavoro di volontariato nell'esperienza bellissima di volentieri volontari e come sempre cercheremo di portare la città ad essere nel giro di poco alla perfezione anche dal punto di vista della cura e del taglio dell'erba e per chi fa spesso segnalazioni su questo tipo di problematiche di erba incolta di vegetazione selvaggia va precisato che le aree pubbliche sono tante ma ci sono poi anche quelle private di difficile gestione anche per l'ente pubblico sì, noi non possiamo andare sulle aree private molto spesso le segnalazioni che arrivano sono anche di condomini di aree che sono convenzionate con il comune dal punto di vista urbanistico e spetta il privato fare l'intervento molta gente non lo sa quindi anche per noi c'è un duplice lavoro che è quello di avvisare i condomini i condomini dove serve per arrivare poi a far sì che anche in quegli spazi che sono privati e non sono di spettanza né del comune né di aspese di conseguenza per far sì che anche lì l'erba venga tagliata il 50% delle segnalazioni riguardano appunto quelle aree ci dispiace facciamo anche quel tipo di lavoro che per noi non è semplice proprio in un momento di piena pressione come quella che stiamo attraversando in queste settimane l'assessore l'assessore all'operatività Enzo Belloni ha annunciato oggi la partenza anche per questa stagione estiva delle navette gratuite per la spiaggia confermate cinque linee partiranno nel primo weekend di giugno con transiti ogni 30 minuti quella del parcheggio San Decenzio a Viale Trieste quella dal San Decenzio a Sottomonte e la linea Riviera del San Bartolo con partenza dall'area archeologica di Colombarone a queste si aggiungono anche la linea notturna che partirà l'11 giugno e la linea Porto-Baea Flaminia che partirà il 18 giugno da una buona notizia per i trasporti pubblici passiamo invece ad una meno buona perché venerdì 20 maggio è previsto infatti uno sciopero degli autobus a livello nazionale dalle ore 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio Adria Bus annuncia che in questi orari il servizio potrebbe infatti non essere garantito e che le variazioni delle corse non saranno prevedibili in quanto legate alle scelte individuali degli autisti e della loro adesione al diritto di sciopero ed ora parliamo di eventi di manifestazioni perché sabato 21 maggio è il giorno dell'annuale Open Day del Conservatorio Rossini conservatorio che si apre alla città con tante ore di concerti e con la divulgazione della sua offerta formativa ne abbiamo quindi parlato con il direttore del Conservatorio Fabio Masini Per noi quest'anno è un anno particolare in quanto il Conservatorio Rossini di Pesaro ha iniziato il 140esimo anno di attività e di produzioni musicali quindi diciamo che ricorre un anno molto particolare per noi sabato sarà una grande festa la festa per noi è una festa importante della musica in quanto metteremo a disposizione del pubblico una vasta gamma di offerta formativa con gruppi musicali che si succederanno dalle ore 10 fino alle ore 18 praticamente attraversando tutti i generi musicali dalla musica classica lirica sinfonica la musica jazz la musica antica quindi diciamo che per le famiglie e i ragazzi che vorranno avvicinarsi alla nostra istituzione sarà un momento molto bello e Palazzo Olivieri potrà ospitare le persone nei luoghi in queste sale splendide per mostrare loro tanta bellezza e tanta musica ecco in questa occasione ovviamente ci saranno anche due punti informativi per i ragazzi e per le famiglie in maniera tale che potranno approfondire quelle che sono le strutture didattiche come funzionano gli esami di ammissione come ci si può iscrivere all'istituzione e quindi diciamo che sarà una giornata che coniugherà la musica i nostri giovani e al tempo stesso le informazioni che sono necessarie per coloro i quali vogliano intraprendere questo percorso formativo ecco detto questo la giornata si concluderà con il concerto con l'orchestra filarmonica marchigiana diretta dai nostri studenti di direzione d'orchestra questo concerto si terrà presso il nostro auditorio in Petrotti solo su invito perché come voi sapete ancora lo stato attuale il Petrotti non possiamo utilizzarlo diciamo in maniera aperta però sarà comunque un modo per ritornare in un luogo per noi sacro e importante per fare musica tutti insieme e quindi per salutare il pubblico che durante la giornata ha percorso i vari punti sia di musica che di informazione e concludiamo questo nostro telegiornale con due argomenti riguardanti lo sport partiamo con il basket è finita 70-51 in favore della Virtus Bologna gara 2 dei quarti di finale playoff per la Carpegna prosciutto basket pesaro VL che ora è sotto 2-0 nella serie e domani sera sarà la Vitre Friguarena dove giocherà una partita da dentro o fuori dopo un debutto da playoff rigonfio di speranze e suggestioni in gara 2 suona altra musica e alla serena il tabellone sentenza 70-51 per la Virtus Bologna e un 2-0 nella serie che porta la Carpegna prosciutto pesaro ad una gara 3 di giovedì alla Vitre Friguarena che diventa match da dentro fuori pesaro tiene nel primo quarto ma poi la forza della prima della classe va tracimando fino ad un inizio ripresa di difficile contenimento e fino ad un'ultima frazione di divario incolmabile le troppe palle perse era successo in gara 1 è un dettaglio che ovviamente è legato anche all'aggressività e alla fisicità dei nostri avversari a dispetto di questo soltanto 9 volte in lunetta con un'oggettiva difficoltà a costruire dei vantaggi come detto con 20 palle perse poi diventa complesso competere quando poi certe palle perse non sono nemmeno frutto dell'aggressività dei tuoi avversari questo fa generare un po' di frustrazione la partita credo che abbia preso purtroppo a inizio terzo periodo una direzione che poi è difficile invertire quando come detto è mancata l'energia la forza e anche la lucidità palle perse e nervosismo come quello di Tyreek Jones che al 28esimo è costretta ad abbandonare la partita per un fallo tecnico ha commesso un errore nonostante le parole spese sapevo che atmosfera avrebbe trovato stasera in campo fuori dal campo è bersaglio dei suoi avversari si sente vittima di fischi insomma l'avete visto tutti quello che è successo in gara 1 e poi lui non ha ancora forse la maturità per gestire emotivamente certe decisioni si è fatto travolgere dai nervi dalla frustrazione per noi è importante averlo in campo è una pedina fondamentale sia nel nostro sistema offensivo che difensivo spero che faccia tesoro di quanto è accaduto abbiamo un'opportunità unica nessuno immaginava che potessimo sedere a questo tavolo siamo qua dobbiamo goderci ogni istante dobbiamo dimostrare a noi stessi prima di tutto che apparteniamo a questo livello abbiamo giocato una prima partita convincente stasera come detto sono mancate le forze ma anche la lucidità e quindi è un imperativo già per la prossima dove dobbiamo riordinare le idee giocare come una squadra sapere che riuscire a farlo contro un avversario così forte così blasonato così profondo ti spinge veramente a giocare al massimo delle tue possibilità ora bisogna ricaricare le batterie giovedì sera il pubblico biancorosso sospingerà la squadra in un match di playoff che manca a Pesaro da un decennio per provare un'impresa che non renda quello del 19 maggio l'ultimo capitolo di questa stagione di redenzione il territorio pesarese è pronto ad ospitare un nuovo evento sportivo di carattere nazionale domenica 22 maggio infatti il nuovo municipio di Montecicardo sarà il campo da gioco del campionato italiano di boccia alla lunga siamo molto orgogliosi di poter organizzare qui a Montecicardo il campionato italiano di boccia alla lunga coppie si tratta di lanciare la boccia il più lontano possibile la gara viene disputata effettuando 8 lanci consecutivi e la coppia che riuscirà a percorrere il maggior tragetto con i propri lanci sarà la vincitrice la gara è divisa in categorie quindi ognuno parteciperà per la propria categoria donne under over non test di serie e test di serie i test di serie appunto sono i migliori giocatori italiani sono previste circa un centinaio di coppie che ci raggiungeranno da tutta Italia dalle regioni centrali dell'Italia in grosso modo la manifestazione si disputerà in via Petricci via Petricci a Villa Agulini di Montecicardo approssimativamente percorreremo un paio di chilometri con la gara questo dipende dal fondo stradale cioè dalla conformazione della strada che presenta diverse curve e quindi diciamo non permette lanci così lunghi però è una particolarità della gara in strade con più rettilinee si riesce a percorrere più strada però non è tanto la strada ma le asperità e il vincere le difficoltà che fa di un giocatore un bravo giocatore quindi viene premiato sicuramente il migliore ecco le premiazioni avverranno alle 18.30 chi verrà premiato e qual è il premio verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria con una coppa e con una medaglia il vincitore il primo di ogni categoria riceverà anche la maglia di campione italiano volevo sfarmarmi sulle coppe le coppe che porteremo alla premiazione che abbiamo fatto costruire sono l'immagine stilizzata di un giocatore che lancia la boccia non c'è un limite d'età per giocare a boccia lunga da quando si cammina o poco più si può giocare e fin quando ci sono le condizioni psicofisiche ci sono giocatori molto anziani che hanno superato gli 80 e continuano a giocare e si divertono ovviamente nella loro categoria però si divertono i ragazzini adesso diciamo che da 10 anni iniziano a praticare la boccia lunga trascinati magari dai genitori domenica se non sbaglio ce ne sarà anche qualcuno che ha meno di 10 anni quindi diciamo dai 10 anni agli 80 anni sono tutti ben accetti ma anche oltre siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale però attenzione rimanete su Rossini TV perché la serata è davvero molto ricca a partire dalle 21.20 la nostra prima serata si parlerà di geomarketing digital management la geografia del servizio della vendita come organizzare una missione commerciale di successo le testimonianze dal mercato in collaborazione con GeoCom Italia un appuntamento davvero da non perdere e poi subito dopo alle 21.40 invece cambiamo completamente argomento vi mostreremo quella che è stata l'inaugurazione e la presentazione delle maglie del club La Sacra Ruota Pesaro questi ciclisti e cicliste che hanno fatto un bellissimo percorso e noi abbiamo le abbiamo intervistati e poi vi ricordiamo che tutti i venerdì torna Vox Pop quindi ogni settimana Rossini TV chiede ai cittadini pesaresi alcune opinioni su un certo argomento e quindi venerdì alle ore 19 in replica alle 22.30 potete vedere insomma la seconda puntata e vi ricordiamo anche che tutti i venerdì alle ore 20 torna il nostro Valefoglia Magazine sono le ultime puntate quelle che vedete ultime puntate nel mese di maggio perché poi da giugno ci fermeremo con questo approfondimento televisivo e io chiaramente vi aspetto domani puntuali alle 7.20 in diretta sul canale 80 in diretta anche sulla nostra pagina Facebook in diretta anche in streaming sul nostro sito rossinitv.it per la nostra consueta rassegna stampa buona serata grazie a tutti